Buongiorno, sono Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia in Italia. Sono lieto di annunciarvi che dal 6 all'8 giugno prossimi terremo nella nostra Regione il secondo forum mondiale dell'UNESCO dedicato alla cultura e all'industria culturale. Lo terremo nel paesaggio stupendo della Villa Reale di Monza a 20 km dal centro di Milano. Lo terremo qui in Lombardia che è la Regione più avanzata d'Italia anche dal punto di vista dell'industria culturale. Qui c'è il 66% del fatturato italiano, qui c'è il 50% degli addetti. Parleremo dei nuovi scenari della cultura e dell'industria culturale, le tecnologie tradizionali che rimangono fondamentali, devono confrontarsi con le nuove tecnologie, con il web. Questo lo deve fare il quotidiano, la stampa, il libro, l'industria discografica e quella cinematografica. Grandi difficoltà da superare ma anche grandissime opportunità. Quindi un appuntamento da non perdere. Un saluto a tutti voi.